Se è vero che la speranza uccida la paura, siamo qui per sperare che una generazione risorga dalla tomba. Una generazione che non si piega al compromesso, una generazione viva e piena di passione. Una generazione senza confini, unita, trasparente e vincente. Non siamo qui per un'altra conferenza, ma per cercare il volto di Dio, la sua presenza ed essere sfidati dalla sua parola. Sei pronto? Benvenuto alla settima conferenza GSC 2017. Non sarai più lo stesso. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza delle anime.